Solo quello del 16.30 Salga all'ottavo piano Buonasera siamo felicissimi io e il clone siamo con la nostra terza gemella la grandissima poetessa Anna Maria per questa bellissima introduzione del film a cercasi felicità Grazie a lei dottore che è felice con suo amore Invece io non merito tutto ciò Sono stata lasciata sette volte Il film a cercasi felicità è da me scritto e diretto e ho coinvolto attori del territorio marchigiano principalmente della provincia di Pesaro Urbino Poi ci sono 17 figuranti dell'Anconetano, Camerata Picena, Chiaravalle, Aguliano eccetera Poi abbiamo 25 comparse che hanno lavorato in una scena che abbiamo girato a Castello del Cassero nella provincia di Ancona La maggior parte delle scene sono state girate qui nel comune di Sant'Ippolito Abbiamo avuto una grande accoglienza da parte del sindaco del comune di Sant'Ippolito La storia tratta il tema della felicità Ognuno di noi cerca la felicità Chi è che non vuole essere felice? Pronto? Giorgio Tania Sì, sono io Sono rientrata da Bucarest oggi Giorgio, mi senti? Scusami, è che non mi aspettavo questa tua telefonata Dopo dieci anni Non voglio sconvolgere la tua vita Ma ho bisogno di vederti C'è un grande bisogno d'amore per non sentirsi soli E molti si appoggiano se sono depressi allo psicologo, giustamente Oppure vanno nelle agenzie matrimoniali Credi che io la troverò Una donna Che mi renderà felice Sto aspettando un cavaliere Cavaliere? Quindi? Un uomo? Non sono io il cavaliere? Lei è una donna! Alla fine si incontrano tutti in un castello Cosa succede nel castello? C'è una bellissima festa in maschera Con delle maschere meravigliose E ho avuto la fortuna di conoscere Anna Lorenzetti Che cura maschere veneziane Proprio per il Carnevale di Venezia Suntem indoi Totul are un rost Si atunci ma intreb Pana acum unde ai fost Nu stiu ce s-a intamplat Nici nu stiu ce va fi Dar cu tine invati A iubi Dottore Ora ho capito come curare tutti miei malarmi Con la felicità C'è questa scena finale Dove poi c'è la risoluzione dei problemi Attraverso Non ve lo posso dire Accogliamo con un bell'applauso naturalmente E' stato divertentissimo Brava Un applauso a Rita Di cui ha creato Oggetto e sceneggiatura Sei un'indulcana di idee Come te Anzi spero di essere come te Veramente Cioè complimenti Innanzitutto vorrei ringraziare il sindaco Perché avete visto il film Allora abbiamo occupato L'ufficio del sindaco Il sindaco non poteva più lavorare Gli abbiamo occupato Perché lo studio E' un psicologo E' un ufficio del sindaco L'altro ufficio a fianco Utilizzato dal sindaco Era l'agenzia Avete cambiato poco Perché tra l'ufficio del sindaco E l'ufficio del psicologo Molte volte le cose si combino Per cui Noi siamo stati molto contenti Invece di ospitare Questa vostra produzione Perché dietro molte volte A questi lavori C'è una promozione del territorio Stasera siamo A Palazzina Sabatelli Siamo in tantissimi E questo mi rende felice Perché più siamo Più stiamo insieme E più siamo felici Un applauso ai coristi Te voglio bene Lo so Odio Non te posso Scurra Come animi a usar Comitu E qui A